Ok, ho iniziato il video Ciao a tutti ragazzi, io sono Vigio e... Vuoi avere un flettino? Si, tanto anche Però sono stato in un video di Gabby, a me piace Di flexare così No No, no, no Parco Oh, no, no, no Ti è, super tosse No, lì sta nei stamp proof Aspetta, faccio Faccio, faccio Faccio, faccio Io sono a legge Io ho la barretta della registrazione che mi copre un pochino di mappa, di minimappa e mi da un botto fastidio Non la posso ascoltare Bravo Ma a te non ti fai vedere la web Ma a te non ti fai vedere la web Ma tu Esatto Ma a te non ti fai vedere la web Ma a te non ti fai vedere la web Ma a te non ti fai vedere la web Immagrazioni in un altro Non lo so perché non li troviamo più Eh sì ma Ci è su un mattino taglia 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 che vuol dire che quando hai la barretta viola non vuol dire niente si? perchè la barretta viola delle volte? delle volte gialla e delle volte gialle delle volte gialla perchè quando è gialla è super carica nel senso che fai esperienza molto più facilmente quando è gialla fai esperienza normale fai di meno diciamo ma che schifo siamo fuori il chef anche del bar fai' di mezzo ovv revolare che stai sono 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 Svegni, Gaby. Svegni, Gaby. Svegna, Svegna, Gaby. Svegni, Gaby. Svegni, Gaby. Guarda che questa parte non la taglio. Hai capito come tagliare? No. Eh? No. Eh? No. No. Ah! Di. Matti Rattu, tu laggi? Matissi, Matissi! Eh, ma pasi? Tann dann tann 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 tann, tann 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 tann. Eh, eh? Sai come avvicinare lo schermo? Sai come avvicinare lo schermo? Sai come mettere lo schermo in grigio? Sai come fare la cacca? Non mi sapevo Dai non mi sapevo Non mi sapevo Oh oh spade spade Oh 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 guarda Non ti sa prendere il culo Che culo Io voglio non ti sa prendere il culo Verò? Celdini celdini Mia spada Mia spada Sì 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 Proprio salutare Ciao Dov'è? Sai dov'è? No Anch'io Sì 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 Però non so una cosa Ti dico Allora è semplicemente Più forte Più forte Più forte di Kylo Ren Sai chi è? Dark Duke? No Darth Vader Water Darth Vader Darth Vader Darth Vader Il cesso nero Darth Vader Anche detto Il cesso nero Pan 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 Parabam Comunque Facele di Dark Panther Vader Non è casuale Esatto Non stiamo Non stiamo Assolutamente Ma assolutamente Non siamo Assolutamente Assolutamente Eii Citando Dark Si Dark un pan di zenzero che darwin programma un programma televisivo molto vero perché siamo così in sé mi sto muovendo le chiappe questo pan di zenzero ce ne sono mille vedo questo milioni ciao amico io ci vediamo un bel danni unico aspetta o mio dio sta roba se la parte da lontano sembra una faccia ho fatto una mitraglietta blu se ti interessa un nuovo rosso ciao amico arrivo 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 ciao arrivo ciao darwin ciao amico sono un bagato questo non mi posso muovere ciao mi chiamo che non mi posso muovere ok che cosa è successo magari un bago della registrazione fa un bago della registrazione non ballare mai più provo a ballare oh mio dio cos'è 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 che mi sto ballare che mi sto ballare con i p***i di mano mi chiamo Luis hai vitto bravo spara a terra un pochissima vita c'è la droppa ci dai medici perché potrebbe anche non darci e se lo rompo cosa succede ciao vende ci sono le bende che urlo altre bende che urlo che urlo corro poi corri più veloce che puoi ho dieci bende che l'hai fatto non le fatte esplode sì sì se si sentirà dei rumori perché mia mamma fa la bici si se sentirà dei rumori perché mia mamma fa la bici tu non sai cosa vede io mi faccio un video come mi faccio un video come a terra arriva 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 questa qua si guarda che ho tolto il shield sono due sopra la montagna capito allora si fanno prima gli scudini poi la scuola mi sono fermo voi potete giochionare siamo ancora fuori safe andiamo andiamo in una spada alta mi raccomando andiamo così su scatto ma come me siamo i un 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 sono la persona 6 e non mi sono mai a corto la terra lo finisco arrivare io ti difendo dalle scale siamo in 13 in questa 6 io sto guardando se ci agente morto no mio dio si giudiamo io tengo pure albando oh vita ci stanno sparabendo vieni qua vieni qua vieni qua che ticolo vai vieni vieni qua vai vieni vieni qua io prendo mazza io prendo mazza io prendo mazza è difficile è dura vai io sono quello che deve affrontarla e se io sono quello che deve affrontarla perché io l'ho aspetta tattiva sappiamo vai vince mi stava per ammazzare come la storia è una brutta fine però nella storia non l'ha ammazzato non capisco ancora perché dai dai andiamo di ammazzare come fare una bella partita magari è muto aspetta lì c'è uno di chi ti ho visto è uhNo iק cattivo riuscirà Talent là ciao 5 cosa questo era cosa cos'è che era siamo due contro uno voglio anche io farlo ammazzarlo ho la sovita io vado prenderlo che si saere che si saere che si saere che si saere questo è una bella piccola durerà 19 minuti esattamente 19 minuti si 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 si